A Prato, al centro Pecci, si tiene il secondo forum del riciclo organizzato da Lega Ambiente ed è la ghiotta occasione per fare il punto sulle buone pratiche attuate in materia di riciclo. Dopo Firenze l'anno passato, adesso Prato, perché questo forum? L'intenzione è di mettere attorno al tavolo tutti i grandi attori, istituzioni, società civile, mondo della ricerca, soprattutto aziende per dimostrare che l'economia circolare non solo la si predica ma la si può praticare nella realtà e il fatto che abbiamo scelto come luogo di elezione per questo tema Prato è simbolico, è significativo significativo perché Prato ha nel DNA il riciclo da 850 anni di storia, una città che vive nel futuro, nella contemporaneità, proiettata verso l'innovazione, non è un caso che abbiamo anche scelto il centro Pecci come dimensione dell'arte contemporanea proiettata al futuro, mettere insieme le aziende che già praticano queste buone pratiche di innovazione tecnologica, di economia circolare, vorrei dire di sviluppo sostenibile per un futuro pieno di occupazione e di buone filiere industriali. Tra i partecipanti al forum anche Unicop Firenze, che risultati si sono ottenuti in materia per quanto riguarda la cooperativa? Ma ci sono diversi aspetti rispetto al tema che di stamani e poi il tema dell'economia circolare, di come si recuperano le cose e come in qualche maniera si contribuisce a rendere il pianeta più pulito. Ci sono due progetti particolari e noi stamani qui presentiamo, uno è il progetto Buonfine, che è questo progetto in cui i prodotti in scadenza, i prodotti ammaccati, noi li rimettiamo in un circuito solidale. È un progetto che coinvolge tutte le associazioni del territorio e insieme alla raccolta elementare che facciamo due volte all'anno, contribuisce in maniera sostanziale a sostenere le persone in difficoltà. L'altro progetto è quello che facciamo con Novamont che è legato ai sacchetti Mater B e quindi diciamo le bioplastiche. Noi nel 2009 siamo stati i primi a livello nazionale a lanciare questa sfida, a togliere i sacchetti di shopper di plastica per sostituirli con quelli di bioplastica con Mater B di Novamont. Abbiamo fatto un'operazione importante perché abbiamo ridotto l'uso dei sacchetti prima di tutto di 15 milioni l'anno, ma soprattutto abbiamo contribuito a introdurre un sacchetto più compatibile con l'ambiente e poi abbiamo fatto un'operazione importante perché il 70% dei nostri clienti oramai viene a fare la spesa con la borsa da casa e che quindi non utilizza, come dicevo prima, i sacchetti. Due anni fa abbiamo introdotto anche questi sacchetti nel reparto ortofrutta e quindi abbiamo fatto un'operazione che anticipa la normativa che ora dal primo gennaio va in vigore e per legge toglie questi sacchetti. Sono di quarta generazione, il 50% di questi sacchetti è fatto da materie rigenerabili e quindi insomma sono un ulteriore contributo importante perché sapete tutti, vediamo tutti i giorni, i mari sono fortemente inquinate dalle plastiche ed è un obbligo da parte di tutti, soprattutto da una cooperativa, ma da tutti i cittadini, dare un contributo perché queste plastiche non siano più utilizzabili. Il 2017 è stato, è un anno fondamentale, importante per l'economia circolare? Sì, il 2017 è l'anno in cui in Europa si è avuta la discussione clou, insomma il momento più importante sul pacchetto dell'economia circolare che ci auguriamo che già entro fine anno possa arrivare a una sua definizione per essere poi operativo già a partire dal 2018. Per l'Italia è stato un anno importantissimo, sia per il dibattito che c'è stato a livello europeo ma anche perché come legambiente abbiamo portato avanti con il treno verde nei mesi di gennaio e febbraio, con un importante appuntamento a Bruxelles ad aprile e poi con un forum nazionale a giugno, proprio il tema dell'economia circolare. Questo perché? Perché in Italia noi abbiamo visto che ci sono tantissime esperienze di aziende private, amministrazioni comunali, enti di ricerca ma anche enti pubblici di gestione che oggi già praticano l'economia circolare. Cioè i principi che noi abbiamo della progettazione di prodotti in modo che sia funzionale al loro recupero e riciclo, la riduzione dei rifiuti, la tariffazione puntuale, in molte zone del nostro paese già oggi è praticata. E quindi nel 2017 è stato un anno importante per raccogliere tutte queste esperienze e andare a dire all'Europa che l'Italia è già pronta. Oggi noi siamo l'eccellenza in questi termini, siamo pronti a ricevere anche obiettivi molto ambiziosi. Però c'è un problema, che sono ancora oggi esperienze puntuali, esperienze possiamo dire private, ma anche nel caso di comuni, esperienze di singoli territori, e manca invece una forza politica che metta questo punto al primo posto. Oggi paradossalmente gran parte di queste esperienze si trovano a vivere ostacoli ben più grandi di esperienze molto meno virtuose nel praticare l'economia circolare. Allora ci auguriamo che entro la fine del 2017 anche una normativa adeguata, una struttura di supporto di tutte queste buone pratiche di economia circolare possa arrivare da parte del governo e della politica con la P in maiuscola per riuscire a veramente intraprendere questo percorso. E al termine della trasmissione ringraziamo per l'ospitalità il centro Pecci di Prato e per quanto ci riguarda l'appuntamento come di consueto è tra sette giorni. Ciao a tutti.